Ambra, qui al Giro d'Italia ciclocross ti stai divertendo un mondo, lo ti si legge negli occhi quando tagli il traguardo. Sì, quest'anno mi sto divertendo molto, questa tappa è stata molto bella, anche le rampe erano impegnative ma divertenti. Che cos'è per te il ciclocross, Ambra? Per me il ciclocross è la mia specialità preferita perché la chiude la strada e la mountain bike. Una dedica per questa bellissima vittoria. Grazie, la dedico ai miei genitori e alla mia squadra che mi fanno il tifo e mi sostengono sempre.